Salve a tutti, qui è Giorginio Minafra che parla. Allora, stiamo facendo un video su delle domande, verità o bevi? Esatto. Qui c'è il vino. Il vino. Il vino. Avevamo solo questo rosè, quindi... E qua ci sono due bicchieri, ma sono già usati. Non si spreca la plastica alla fine. E niente, oggi faremo questo gioco, vedremo come andrà a finire, dove ci faremo delle domande e dobbiamo rispondere il più sinceramente possibile, se non vogliamo rispondere invece... Vabbè, verità o bevi? Verità o bevi, vabbè, si capisce, penso... Intanto ci sono il bicchiere. Ne mettiamo poco perché non penso che ci saranno... Qua ci sono i primi due bicchieri. Esatto. Se vogliamo rispondere. Non vogliamo. Allora. Inizi tu, inizio io o lo stesso? Inizi tu? Come vuoi? Non ho iniziato, forse mi sono più delicato. Qualcosa che non tolleri di me. Allora. Di te intanto non tollero, io non mi vergogno a dirlo. Intanto il fatto che quando stiamo insieme spesso stai al telefono. Quando poi però, quando stai con i tuoi amici invece, e ti scrivo, tipo tu non rispondi, quindi non ci stai così tanto al telefono con loro. Il fatto di fare commenti su altri ragazzi ormai ci ha fatto il callo, quindi cercherò di non... Anche se a volte dà fastidio, cercherò poi di non gelosirmi più. Per questo. Devo sapere alcune cose. Vai tu. Allora. Per prima domanda. Mi hai mai rubato qualcosa? Io, no. Tu non mi sei sincero, dai. Ti è andato a domanda dopo? Oh, non me lo ricordo. Non lo so, ti hai rubato qualcosa? Sono kleptomare, non lo so. Kleptomare, no, no. Ti hai rubato qualcosa? No, io sappiamo. Eh, infatti. Non potresti. Eh, infatti. Andiamo alla prossima domanda. Faresti un sgarbo a me per un tuo tornaconto? No, non potrei mai. Sincera? No, vero. Non potrei mai. Anche se ti lasciassi? Ah, certo. Se ti tradissi, tu mi tradiresti come vendicazione? No, le ripiche non mi sono mai piaciute. Al massimo... Sicuro? Quella famosa. Però preferirei lasciarti che tradirti a mia volta. Vabbè, questo vale anche per me. Appunto. Non sono mai. Anche se tu mi hai detto che giuri che non mi tradirsi mai. Infatti la prossima domanda è mi hai mai tradito o hai mai pensato di farlo? No, non ti ho mai tradito. Ci hai dovuto pensare? No, non ti ho mai tradito. Però ci ho mai pensato di farlo, ma adesso neppure. che ho detto che fin quando siamo insieme non ti tradisco. mi sembra abbastanza sincero. No. No. relazione? puoi anche bere se non vuoi rispondere. no è capitato la verità nel senso che mi è capitato di lasciarti fino a tre giorni fa solo che poi mi sono accorta subito del mio errore perché se ci sono delle cose da risolvere bisogna cercare appunto di risolverle all'interno della relazione prima di lasciarsi, dialogando, parlando, cercando di cambiare. io non sono una di quelle che dice ah no io non cambio per nessuno, mi sono fatta così e chi mi vuole bene. Comunque altra domanda... dov'è? ah la stessa una cosa che non sopporti di me, che se me l'avevi fatto prima però. una cosa che non sopporti di te, prendere il controllo dell'altra persona, essere geloso possessivamente e avere il controllo di dell'altra persona. quello. non è proprio il controllo però. come ti ho detto? questo. vabbè, comunque. apprezzo la sincerità. poi? e tocca a te. ah tocca a me. mi hai tenuto segreto qualcosa di importante? stavolta meglio se bevo. non è niente di... di trascendentale però. vediamo un po' se non ti posso dire. no però... addio. cioè sulla... non lo so, sulla relazione... cioè sulla vi... una cosa riguardante la vita o una cosa... tutto. ah una cosa riguardante la vita. avevo voglia di bere solo per questo. a parte non si riesce mai di conoscersi magari. fammi la tua domanda, fammi la tua domanda. però trovi bene tutto. ah, allora vabbè. intanto continuo a bere. ehm... una... non lo so, una... mi hai mai detto una bugia? del stessa che quale? a te non l'ho mai detta una bugia. quindi tutte le cose che mi avevi detto in passato scritte e tutto erano tutte vere. ma io così. vabbè, questo quindi... forse sono finita le domande però ci posso pensare comunque. mi hai... mi hai mai rubato qualcosa? è la stessa domanda. è la stessa domanda. no, massimo... forse qualche maglietta quando volevo sentire tipo il tuo proprio... no, vuol dire... diodorante così. non sei sincera piano. non sei sincera. mi hai rubato... una lucettina led. ah, ma non è rubare dai, è perché mi piace... sapevi che mi piaceva. e vabbè, dai. sai che mi piacciono le luci led. e vabbè, mi hai rubato un meno una cosa. vabbè, forse. ehm... non l'ho fatto per male però. a parte te l'ho forse più oppure restituita. hai finito tutti i messaggi? ehm... sì, perché poi quelli sono troppo intimi. non mi aveva di caso. no, vabbè, vabbè. tipo... aspetta. ah, tipo un modo... per farti... è un modo? per farti tornare la voglia. ah, vabbè. al momento non lo so. non so. hai mai... hai mai spiato i miei messaggi? eh, questo sì è capitato. lo sai anche tu. così come tu l'hai fatto con me però... dico... io non ci ho mai visto niente di male nel... nel controllare, nel guardare il telefono di un'altra persona. lui invece... ultimamente sì. cioè prima non... però era pure così. cioè prima neanche tu ci vedevi niente di male, ora sì. no, siccome ero tu... comunque non abbiamo bevuto. cioè almeno... infatti mai. io mai. io sono quella cosa forse del... eh... lo sé... mi è tenuto nascosto qualcosa, sì. è già otto minuti... quasi nove minuti. va bene. comunque ci vediamo. ciao a tutti. al prossimo video. eh... iscrivetevi al mio canale. un modo per sopportare il canale. eh... presto ci saranno nuovi video. arriviamo a 100 iscritti. proviamo. proviamo ad arrivare a 100 iscritti. no, proviamo. dobbiamo arrivare a 100 iscritti. quindi iscrivetevi al canale. iscrivetevi. iscrivetevi numerosi. e... ciao a tutti. al prossimo video. ciao ciao. alla prossima.